Benvenuti a Imprese Quotidiane. Oggi ci troviamo nella sede Ascom di Belluno con Carlo Rossi. Vi ringrazio per questa visita, così mi date modo di spiegare in un minuto il lavoro che proviamo a fare qui a Belluno. Si tratta sostanzialmente di dare assistenza burocratica alle imprese. Lo facciamo prima di tutto per i nostri associati, ma siamo a disposizione anche degli esterni che possono venire ad informarsi e poi essere accolti e aiutati in questo difficile momento, perché al di là di quello che si dice in giro è sempre più complicato anche aprire quelle piccole o piccolissime aziende che sono la nostra base quotidiana. Nel nostro ufficio il discorso parte dalle licenze, che è molto ampio perché si va dal discorso ambientale a quello igienico-sanitario, a quello amministrativo e poi si arriva anche a delle componenti più pratiche di tutti i giorni, di calcolo di quella che è la fattibilità di un progetto. Quindi le pratiche che tu segui sono tantissime? Sì, sono molte e diverse. Questo ci ha permesso nei molti anni che abbiamo alle spalle di farci una certa esperienza che proviamo a mettere oggi a disposizione della categoria. Quindi tu sei un grandissimo punto di riferimento per le aziende che già ci sono e anche per le potenziali associate. Questo è in parte vero perché in realtà è con chi ci confrontiamo poi che ci permette di ottenere risultati. Abbiamo delle amministrazioni che collaborano moltissimo, ci danno una mano, ci aiutano a risolvere i nostri errori. Altre magari che per natura sono più puntigliose, noi ci proviamo, ce la mettiamo tutta. Carlo, grazie mille. Grazie a voi della visita. Grazie, grazie veramente. Per la puntata di oggi è tutto, ma noi ci vediamo domani con Imprese quotidiane. Grazie a tutti.